7.35 minuti, ancora qui in diretta su Good Morning Milano, Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus e poi tutte le altre modalità che avete per ascoltarci le potete trovare anche sul sito, le app, tutto quello che volete, ma questa mattina abbiamo anche un ospite al telefono in questo momento che è l'assessora del Comune di Milano a servizi civici e tante tante altre cose che poi ci racconta lei, Gaia Romani perché ci deve raccontare di un'iniziativa che inizia oggi, è una sorta di Gaia Romani on tour, non è solo lei, ma in realtà il Comune ci viene a raccontare un po' come fare e perché anche forse è importante votare per le elezioni europee che ci saranno appunto a giugno. Buongiorno Assessora! Buongiorno Fabio, grazie mille per l'invito. Grazie a voi per l'iniziativa perché è importante ricordare sempre che tutte le elezioni sono importanti e quindi anche questa è una elezione importante per andare e bisogna andare a manifestare il nostro diritto di votare e di contare e quindi è giusto che la gente sia informata anche su come funziona, che cos'è, cosa non è. Quindi avete pensato di fare fondamentalmente proprio un tour, siete in tour per il Comune di Milano nei vari municipi e questo tour inizia oggi. Che cosa farete e come? Allora, a noi cercheremo di raccontare l'appuntamento delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno insieme all'Ufficio del Parlamento Europeo a Milano e insieme all'Università Bocconi per raccontare la campagna Usa il tuo voto. E fondamentalmente cercheremo di raccontare in maniera accessibile per i giovani, soprattutto, che sono il nostro target di riferimento in questi appuntamenti, ma chiunque volesse partecipare noi siamo felicissimi. Abbiamo individuato i quartieri in cui, storicamente, in questo tipo di elezioni europee, nella nostra città di Milano, si è votato di meno. Questo proprio perché è vero che l'astensionismo è un problema, come dire, globale nelle democrazie, non è un problema soltanto nostro, evidentemente. Però io, Fabio, sono sempre più convinta che man mano che i problemi, come dire, diventano sempre più grandi, un po' come quando noi diciamo nella nostra vita quotidiana di affrontarli un giorno alla volta, secondo me affrontarli un comune alla volta, quindi spezzettandoli e cercando anche di affrontarli in una dimensione più locale, può essere una strategia. Quindi anche noi, come dire, abbiamo detto, nel nostro, tra molte virgolette, piccolo di città, proviamo a fare la nostra parte. Quindi, insieme a Bocconi, Ufficio Parlamento Europeo, per la prima volta il comune di Milano prova a fare, diciamo, un vero e proprio tour di informazione, di sensibilizzazione e di incentivo alla partecipazione. Ok, questo tour inizia oggi, come inizia e da dove, diciamo, come funzionerà? Allora, questo tour inizia oggi alle 14 nella cornice di Mare Culturale Urbano, dove ripartiremo, come dire, un po' dalle basi, quindi racconteremo come funzionano le istituzioni europee, come si voterà, quali sono le forze in campo, perché ormai le liste sono state presentate, e quindi diremo tutte le informazioni principali, racconteremo anche un po' di storia e racconteremo anche un po' dell'assenzionismo nella nostra città, che in alcuni quartieri ha raggiunto, figurati, l'88%. E quindi racconteremo anche le motivazioni, presenteremo un po' di dati che riguardano Milano e anche, diciamo, qualche analisi sulle ragioni dell'assenzionismo, soprattutto migliori. Assessora, ci sono dei quartieri, nella nostra città, in cui l'88% degli abitanti di quel quartiere non sono andati a votare alle ultime europee? Esattamente. Eh, c'è un bel lavoro da fare, mi sa. Esattamente, assolutamente, assolutamente sì. Poi come funzionerà? Nel senso, oggi appunto, diciamo che alle 2, a Maricoltura Urbana, avete un po' appunto il kick-off, il calcio di inizio di questo tour. Poi questo tour andrà invece ancora nei quartieri, anzi, continuate a rimanere nel Municipio 7 oggi, se non ho sbaglio, ho visto che appunto alle 4. Esatto, poi alle 16 saremo presso l'Ab Selinunte, in piazzale Segesta, sempre in Municipio 7. Poi invece l'8 maggio saremo nel Municipio 4, fino al 21 maggio, così in ogni municipio, nel quartiere in cui in quel municipio si vota di meno. Ovviamente si trovano le date sul sito del Comune di Milano, basta cercare Elezioni Europee Comune di Milano e lì ci sono tutti gli appuntamenti. Ma il 9 maggio, che sarà proprio il giorno dell'Europa, invece saremo davanti al Castello Sforzesco, in piazza, a fare uno speed date con i professori e le professoresse dell'Università Bocconi che si metteranno a disposizione. Che cosa vuol dire? Che i cittadini potranno venire in piazza Castello durante tutto il pomeriggio, se hanno una domanda sull'Europa noi l'indirizziamo al professore che segue quel tema e gli daremo in pochi minuti un po' di approfondimenti sulle curiosità più grandi. Voi avete un po' di dati in mano, mi dicevi appunto, l'assenzionismo, i quartieri che più o meno hanno votato l'ultimo europeo, qual è una delle cause, se non riuscite appunto i vostri professori a capire, o comunque c'è Bocconi anche dietro che avrà fatto sicuramente i suoi studi, quali sono le cause principali che portano l'assenzionismo verso l'europeo e soprattutto c'è così tanta differenza tra quando si vota per un altro tipo di elezione e le elezioni europee? Allora, tendenzialmente quando ci sono le elezioni europee da sole come sarà in questo caso, quindi senza elezioni politiche o elezioni amministrative in contemporanea il rischio di un fortissimo assenzionismo è più alto chiaramente e questo diciamo sarà un primo elemento caratterizzante il voto dell'8-9 giugno. Poi noi abbiamo analizzato in particolare l'assenzionismo giovanile e abbiamo scoperto delle cose che diciamo potevamo immaginare ma sai quando lo vedi nei dati è sempre diverso anche l'effetto che ha sulla propria consapevolezza come politici, come persone che fanno parte delle istituzioni. E sono all'aumentare della povertà dei ragazzi, proporzionalmente diminuisce la loro partecipazione al voto e abbiamo visto che purtroppo la partecipazione è più bassa anche lì dove c'è un più alto tasso di abbandono scolastico oppure per esempio nei NIT che sono i giovani che non studiano e che non lavorano. Invece da un punto di vista generale è un fenomeno sul quale io personalmente come assessora anche alla partecipazione ho letto tantissimo e non c'è una vera e sola ragione, anzi a volte noi pensiamo che sia, andiamo un po' in allarme e pensiamo che sia necessariamente sempre una componente negativa a spingere le persone al non voto. In realtà alcuni studi sostengono che non sia necessariamente così, per esempio c'è chi non va a votare perché si sente sicuro in qualche modo, si sente già in una democrazia sufficientemente solida e questo per le istituzioni europee può essere. Siamo così sicuri di questo studio? Abbiamo così fiducia? Questo lato positivo non me lo aspettavo sinceramente? No, neanche io mi ho stupito per questo che te lo racconto perché poi appunto andando a fondo ci sono punti di vista molto molto diversi e variegati, però mi viene da dire dall'analisi che abbiamo fatto a Milano che purtroppo non è il nostro caso perché lì dove raggiungiamo alti picchi sono sempre situazioni e quartieri complessi. Difficili e complessi, chiarissimo. Bene Assessora, allora noi sul sito Inter del Comune appunto troviamo tutte le date, l'iniziativa europea e comune di Milano capofila in un progetto per la partecipazione dei giovani al voto, questo appunto è l'articolo che c'è sul vostro sito con poi tutti i vari orari. C'è un altro modo, cioè seguiamo il Comune e abbiamo tutte le informazioni sul sito, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi appuntamento, diamogli l'appuntamento di oggi, quindi ripetiamo l'Assessora? Oggi stiamo a Mario Culturale Urbano in diecenni undici dalle quattordici. Perfetto, e poi potete seguire tutto il calendario per gli altri incontri. Grazie mille Assessora, buon lavoro e ci rivedremo poi a votare tutti quanti a giugno perché è importante per traprendersi, noi in questo momento siamo anche in parco undicio, quindi non possiamo ovviamente dare spazio a un solo candidato, sono dovrebbero di tutti, quindi pensa che non è proprio semplicissimo. Però invece diamo spazio molto molto volentieri all'istituzione europea e alla fatta appunto di andare a votare l'importanza appunto di quella maledetta crocetta che ci costa magari fatica, ma è importante appunto mettere tutte le volte che siamo chiamati a prendere una decisione. Grazie mille Assessora e buon lavoro. Grazie Fabio, anche a te, a presto, ciao a tutti e a tutti. Grazie ancora all'Assessore Gaia Romani e a questa bellissima iniziativa appunto per avvicinare i giovani ma non solo appunto al voto perché è importante che tutti vadano, soprattutto i quartieri che ci ho appena raccontato raggiungono veramente delle vette di estensionismo altissime. Prima di andare avanti con la musica arriva la notizia da via Ludovico Il Moro che all'altezza del confine con Bucinasco risulta allagata. Quindi attenzione sicuramente questa è la prima di una lunga lista di disagi che si staranno in questo momento insediando, insediando, insediando nel nostro territorio perché in questo momento sta venendo giù veramente un'acquazione di quelli importanti. Il Seviso in questo momento è diciamo più o meno sotto controllo, dico più o meno perché sta facendo un po' su e giù con i livelli. Poi capiremo, l'Ambro anch'esso in questo momento sembra che regga e mantenga ma i livelli sono veramente molto molto alti e stanno tendendo a salire. Quindi terremo comunque un occhio aperto sul sito di Arpa Lombardia per capire ancora meglio cosa stia succedendo in città e per avere in tempo reale la situazione. che insomma in questo momento infatti le precipitazioni continuano a salire a Milano via Rossellini che è dove c'è la stazione centrale per intenderci più o meno lì, scusate, no, regione Lombardia per intenderci, ok. In questo momento le precipitazioni arrivano a 1.8 mm all'ora e con un totale di 95 mm nelle ultime 24 ore. Quindi tantissima acqua sta cadendo e scendendo sulla nostra città.